NUCHE! E' troppo vicino Grandi regà, troppo bella E' la non migliorata Tu dici, pensa di quanto faceva schifo prima Però vabbè è figo Uno può decidere di lanciarla in un posto Lì tutti insieme 30 persone la vedono E poi hanno un tira gicce coi mostri Chissà se è uscito il colosso quelli o no Oh regà, grandi eh, grazie E' comparsa la La notifica Appena ho finito la missione che ho trovato il tipo E' comparsa che avete Lanciato la bomba, grande Aspetta, per esempio Dobbiamo un raddix Vediamo se spavano qua Eppure a metà sta morte dal lato L'ho preso a 10 volte Ah, ho perso i poteri De mutazioni perchè ho preso il raddix C'è la possibilità che spawni qui Come in altri posti pure della mappa Ah regà Oddio, ho visto qualcosa di su quel tempo? Davvero? Aspettatemi, aspettatemi Arrivo, arrivo, arrivo Oh Supermudanti Oh, madonna Oh, madonna Cosa 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 Eh il Colosso Quendico raga E' uno Un megaboss Se lo beccano è brutto Cosa Cosa il raggio delle radiazioni è questo ma la mappa è enorme facciamo un po' un giro di ricognizione visto e rivisto ormai ah questo è morto morto penuglio eh penso che se le lanciamo vanno nei bunker ahi se hanno un lato sotterraneo pure tutte e due possono entrare in un lato pure i pretoni cosa è bugato perché ho sentito che si può lanciarli e in effetti era una prova da fare però non volevo perché penso che chi lo fa sicuro sei nemica e gli abitanti non è una cosa carina da fare e non stanno un po' di incalzatura bella Alessio benvenuto iscrizione al canale di Marco Pitato non è negoziabile stiamo perlostrando la zona atomica perché mi ho nuclearizzato un punto è qui, è qui, è qui, è qui è qui, è qui che è oh? dai, non mi dì no, vabbè, che figata è una bestia eh oh tipo Godzilla mostro oh l'avevo beccato regà e vai regà, taglia tutti che culo l'avevo detto noi c'è un culo lo becchiamo è brutta bestia eh cattroia oh che davvero panico siamo fuori dalla nuve pure con la bestia io se resisto io faccio delle inquadrature fighe però porca troia che l'andro a tutti vuoi indico me lo stavi sto ragazzo aia che è sta scossa oh una sbrattata gigante ne fa maronna come meno e che paurissima uno su quindici cheat da paura dai io sto cercando non meno eh io ho spappolato una gamba comunque a st'amico ok regà è la cosa più simile a a un centauro è la cosa più simile a un centauro che si vede da full auto 3 è il new vega livello 75 è pure sta in merda progenie un ventico aspetta smug immobile io vorrei fare le inquadrature e mi ammazzate qui i stronzetti piccoletti che mi stanno a sbragar sto verso comunque regà l'hanno preso da da Godzilla ho fatto un'inquadratura bellissima grande Gianmarietto va bene va bene la cosa buona è che questa non scompare come la regina dopo un po' quindi alla fine pure fra un pochetto lo potremo sbragar piano piano oh ma ha visto una testa eh non mi fa mirare le testa di vero che ho levato una carta oddio io che me ne andavo facevo troppo ride ecco mi vengono da romper cazzo a me oh oh sì metti una paura ma perché non mi stai a venare c'è una cosa mica ecco ho sbrattato un faccio poi mi ha sbongolato un testa sta tornando sì è vero proprio così è andata una missione desiderante no cazzo sono inventario pieno senza alcun motivo ah ok mi fa rientrare pure dagli amici bella De Frank bella a tutti ragazzi ciao ragazzi Dio ma non ho mai visto una cosa così veloce aspetta io prima se riesco devo cambiare cioè sono che ha ripresa la vita a merda stampato no inizio dai dai io dopo ho colpito dall'alto ti poffate No, ha mutato. Devo cambiare questa carta e metto la perfezione che posso sparargli agli altri perché così li riduzco. Confezione. Ha pure distrutto le gambe. Il cazzo della 2 mi ha preso. Eh, porco Dio, tutto mi si è rotto. Spesso ho finito i proiettili, c'erano due, ma come faccio? Mi si sono rotte tutte le armi. Uazzino. No, mi si è scaricato pure il nuvelo di fusione, vabbè, ciao. Finito. Siamo passi una settimana al camp a sistema Ego. E' un po' che è successo. Porca droga come viena a sto cazzo decoso. Liberty Prime, back online. Allora, ispeziona, eh, tutto di reparazione, meno male, con uno. Stoca. Però è scampire di stasmerza. La macchina fotografica ho preso. Mamma mia quanto metti paura. Cazzo. Cunno ti costringe a scappare. Il che... Permette comunque, almeno nel momento che mi allontano, l'anno mafia... Eh, ho già messo dietro. Ehm. Mannate i cosi. Ebrogenie. Eh, non so nemmeno cosa da sottovalutare questi, eh. Questo livello 70-10, guarda che cazzo, che so. Guarda che cazzo, che so. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo è in piedi. Oh, guardate. Stavamo in cazzo. Dai, via, ragazzo. Non Ranger passa di basso. Mena comunque un fa, bro. No, via. più spazzere ho capito qual è il bug volevo più a testa 1 testa 2 inquadrarlo pare indebolito gli stanno a fare più danni dai regà uccidi 8 tipi di grip tirano vabbè quello era un bonus a cazzo 150 tappi uè uè sparaglio di assassino sacca vocale guendico colosso rottami di fibra balistica vabbè rottami di fibra di vetro vi disfuse niente d'assurdo però ho trovato un'arma assassino vediamo un po'